per la prima volta, per la prima volta, Basilea, Svizzera, dove? volkshaus, vabbè voi che siete in Basilea sicuramente saprete come si pronuncia e dove andremo per acquistare i biglietti cliccate il link ok vi aspettiamo, 6 novembre a Basilea, il 6 novembre alla volkshaus di Basilea vino agli anticorpi e non solo un cast ricco incredibile ci vediamo lì però dovete comprare il biglietto adesso subito andate adesso buongiorno 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 ciao amici di Basilea amici svizzeri amici italiani il 6 novembre finalmente confermata saremo a fare una bellissima serata io gli artetega e pino e gli anticorpi a Basilea grazie ai nostri amici della Ferrante Production e gli emigratori venite ci faremo tante risate il 6 novembre la serata made in Italy made in Naples made in sud made in amici ok ti aspettiamo un abbraccio forte da Ciro Giustiniani ciao 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 Grazie a tutti.